cari telespettatori di fano tv bentornati oggi abbiamo il piacere di presentare festival in the park ovvero un'iniziativa di cinque giornate dedicate al buon cibo buona musica tantissimo divertimento e tante iniziative da come dei dialettali sfilate di moda vintage e perché no anche una magnifica sfilata canina ed anche non meno importante ad uno spazio legato al solidale qui con noi studio oggi abbiamo mauro rapa presidente dell'associazione culturale la via della seta che ha organizzato questo meraviglioso evento che si terrà a lucrezia dal 24 fino al 28 di luglio salve presidente buongiorno buongiorno a voi grazie festival in the park come nasce questa iniziativa allora l'iniziativa nasce da una festa che non facciamo più cioè noi per anni abbiamo fatto a lucrezia la festa della fava del formaggio però c'è stato di mezzo il meteo sono anni e tutti sanno che quando noi organizzavamo la festa della fava del formaggio il meteo era chiaramente tutto dalla parte nostra cioè pioveva sempre quindi classico è un classico a maggio allora dopo l'ennesimo rinvio abbiamo deciso di cambiare e di però di vedere sempre di fare una festa da dedicarla ai cittadini perché lucrezia senza una festa come era importante la festa della fava del formaggio ci sembrava giusto riproporla quindi con la stessa formula della festa della fava del formaggio cambiamo solo il mese e la facciamo fine luglio e anche il nome giustamente giustamente lo chiamiamo festival in the park perché con tutte le iniziative che facciamo è una specie di festival e lo facciamo nel parco principale meraviglioso di lucrezia giustamente per tenere sempre questa tradizione di festa ed è giusto che anche i cittadini abbiano uno svago e qual è l'obiettivo di questo evento l'obiettivo è appunto quello un po di passare da far trascorrere e passare insieme delle belle serate e quindi cercando di mettere insieme vari gusti ecco perché appunto anche la parola festival diventa si proprio si integra bene questa parola in quello che andiamo a fare e anzi comincerei subito con il programma se può andare bene infatti si verrà strutturato nelle cinque giornate nella giornata di mercoledì cosa mercoledì sera da tradizione noi collaboriamo e siamo amici del del gaff il gruppo dialetale fanese di bellocchi che loro presenteranno la loro commedia chissà contenta god sono del una compagnia straordinaria quindi il mercoledì sarà tutta da ridere esatto proprio l'insegna del divertimento puro divertimento puro con le risate con gli amici del gaff risate assicurate sicuro guarda è garantito perché poi sono straordinari gli attori mentre nella giornata di di no perdonami giovedì di giovedì allora giovedì sempre per la di per diversificare ci sarà un complesso che nella zona va per la maggiore che sono gli zebra 3 sono straordinari dei musicisti veramente molto molto preparati che si faranno rivivere con le loro canzoni veramente non so se partiranno dagli anni 60 70 però per quello che ne sappiamo per quello che abbiamo sempre ascoltato da loro sono un complesso sono in tre ma io dico sempre loro ma siete come la formula 3 loro sono gli zebra 3 ma sono in tre ma fanno veramente una musica bellissima quindi una musica tutta una serata tutta dedicata all'ascolto di buonissima musica che ci faranno rivivere la bellezza di quegli anni e giovedì sera giovedì sera ci sarà la sfilata vintage che è una proposta che c'è da un gruppo di signore che con i loro abiti dagli anni dal 1900 in poi con tutti gli anni ci saranno questi abiti che indosseranno queste signore si sarà sta sfilata e verranno riproposti questi vestiti vintage e credo che possa essere prima del concerto ed è anche un bel accostamento la sfilata prima del concerto almeno un attimino possiamo svagarci e poi dopo ci sbagliamo o serviamo queste belle signore con i loro abiti ci illustreranno ci saranno gli abiti collegati alle musiche del tempo quindi sarà una cosa tutta carina tutta da scoprire venite giovedì sera e di nostre anche questa sfilata vintage cioè non è anche una semplice sfilata ma verrà anche valorizzata l'emancipazione anche la storia della moda assolutamente la storia della moda e diciamo infatti sarà accompagnata da dei testi che loro hanno preparato e spero ripeto moda collegata alla musica al tempo in cui questi abiti andavano ed è bello quando l'arte viene unita è sempre un successo speriamo sì sarà così assolutamente sicuro sicuro mentre per venerdì venerdì andiamo sui giovani tra l'altro per noi il venerdì è sempre stata la serata dei giovani quindi avremo un dj gagliardi un ragazzino giovane ma che sta andando molto forte sicuramente sarà accompagnato anche da qualche suo altro amico dj e lì la serata tutta da ballare divertimento tutta per i giovani anche lì metteremo qualcosa prima un nostro amico nostro socio fa parte ed è un allenatore dell'energy box di calcinelli quindi ci sarà una piccola dimostrazione di questo gruppo dell'energy box quindi come vedi mettiamo sempre qualcosa a contorno esatto sembra un pochino di tradizione e modernità messi insieme quel tanto che ci vuole come quando si va a tavola c'è il primo c'è il secondo e c'è il contorno e inoltre volevamo anche precisare che queste serate ci sarà anche un aperitivo che verrà organizzato si dal bar tutte le sere tutte le sere e collaborano con noi tutte le sere c'è l'happy hour dalle di ore 18 in poi che il bar 603 con cui noi collaboriamo in questa edizione e poi anche giovedì venerdì questo tutti i giorni anche domani sera che mercoledì tutti gli altri giorni invece la ristorazione garantita dagli amici catering del ristorante la perla che sono una garanzia ormai è una tradizione che la collaborano con noi esatto come detto ormai la perla una garanzia di bontà sì 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 assolutamente sono molto bravi sono molto bravi mentre per quanto riguarda la serata di sabato cosa allora sabato cominciamo a fare le cose più complete ancora allora sabato poi magari ne parleremo c'è una cosa particolare di cui hai già accennato un momento un po anzi tutta la nostra festa è dedicata a un'associazione ma ne parleremo dopo allora sabato sera apriamo con il mercatino degli hobbisti degli artigiani che quindi tentiamo anche la strada del mercatino siccome abbiamo dei soci dei nostri amici che lavorano fanno questi lavoretti apriamo anche a loro l'opportunità quindi è un'opportunità per loro e per chi viene a visitare esatto la festa ci sarà anche un piccolo gioco con le piantine si vince una piantina da vedere è una cosa molto carina un'iniziativa molto interessante veramente carina perché si torna a casa sempre con un fiore con una pianta l'abbiamo fatto perché insomma la natura l'amiamo tutti poi la via della seta è famosa per le passeggiate per la scoperta del territorio poi alle 20 iniziamo con due scuole di ballo non che c'è sia una competizione tra di loro anzi io so che vanno sono molto amici però abbiamo l'esibizione di due scuole di ballo una è l'E di Monica Dance e l'altra la Dim Dance Marche di Andrea e Sissi sono due importanti scuole del territorio che si esibiranno prima della grande serata con l'orchestra Mangani che sono bravissimi quindi penso che si ballerà fino a notte fonda quindi mi raccomando rifacciamo di nuovo l'appello a venire divertiti sempre il divertimento è garantito poi se uno lo vuole si diverte anche con poco però qui c'è anche parecchio inoltre sabato ci sarà anche un importante avvenimento sì allora quello di sabato ed ecco entriamo nella parte che a noi piace di più perché quando si fanno queste feste è bello divertirsi ma sapendo che il divertimento che andiamo a fare lo dedichiamo a qualcuno quest'anno abbiamo deciso anche se da altri anni abbiamo collaborato insieme con l'associazione L'Orizzonte per chi non lo sa magari a Lucrezia o Nettintoni conoscono di più Vile e Velina ma è L'Orizzonte che è un'associazione hanno un'associazione con dei figli dei bambini con dei problemi li vogliamo aiutare loro quest'anno hanno fatto una cosa meravigliosa con questi ragazzi io ho già visto il loro lavoro con l'aiuto di alcune persone che poi vedremo sabato hanno realizzato dei murales nella loro sede e quindi l'orario adesso non mi vorrei sbagliare però l'orario loro ci sarà l'inaugurazione che è alle ore 18 e 30 l'hanno chiamata al di là del muro quindi è significativo anche veramente meritano io dico che tutto quello che noi faremo la gente che verrà lo meritano la meritano questa attenzione perché chi ha dei problemi tu devi aiutare chi ha bisogno chi non ha bisogno fa da solo magari no ma chi ha bisogno lo devi aiutare già anche con la presenza inoltre permettono questa associazione permette a questi ragazzi di conoscere al di là del nucleo familiare che c'è una società che comunque è pronta ad accoglierli e che gli vuole bene e che gli vuole bene e questa iniziativa è molto molto ottimale per ricordare questa cosa noi abbiamo voluto inserirla anche loro in accordo con loro inserire proprio al centro della fei infatti lo faremo sabato per fare sentire che loro non sono soli esatto è la cosa più importante c'è una comunità dietro che li sta li sta aspettando certo e quindi mi raccomando venite a vedere questo murales che merita merita di essere davvero visto e inoltre ci sarà la giornata conclusiva quella di domenica sì la giornata di domenica siccome come ho detto prima abbiamo abbiamo eliminato la festa della fava del formaggio abbiamo ripetuto la stessa formula la serata finale era anche negli anni passati la serata latino americana con kick on ritmo che è un personaggio straordinario con una scuola bellissima e saranno loro che animeranno tutta la serata quindi sabato sera una serata latino americana domenica sera domenica sera sì scusa domenica 28 quindi ci saranno loro e lì latino americano lo dice ormai piace a tutti quindi sarà una serata lì possono parlare successo tutti possono ballare il ballo è aperto a tutti 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 si e inoltre ci sarà anche una meravigliosa gara canina sì quando si dice il cane assomiglia al padrone è un detto vero e proprio allora è un detto che è reale se voi vedete quelli che camminano che i cagnolini per il parco eccetera tu ci vedi sempre una somiglianza tra cane e padrone è la terza edizione questa avevamo sempre avuto una partecipazione grandissima innanzitutto premi per tutti quindi una cosa bellissima ci saranno i vincitori e ci sarà il primo secondo il terzo poi ci saranno i primi speciali sarà una serata da divertirsi nel pomeriggio comincieremo le iscrizioni verso le 18 poi chi vuole partecipare con il proprio cagnolino dimenticavo il domenica prima del ballo di chi con ritmo avremo un'esibizione della scuola di tecundò amico morris e la scuola dancing time che è una scuola di danza di lucrezia della berloni valentina e sarà lì con noi faranno un'esibizione prima della grande serata di ballo latino americano così potremo anche vedere altri stili e anche altre forme di sport sì sì ma è un festival giustamente un festival che ha tutto a 360 gradi proprio comprende tutto è un po il nostro slogan è noi noi facciamo cultura a 360 gradi perché tanto tutto fa cultura giustamente dal buon mangiare e allora ci ricolleghiamo al discorso della perla al buon mangiare al buon bere al buon ballare essere solidali vedere chi fa la danza vedere chi fa il ballo classico chi fa il latino americano chi fa sport quindi abbiamo cercato un contenitore dove vedere anche chi si prodiga nel far vestiti comunque anche altre forme di arte altre forme di arte certo tutto tutto non è proprio tutto ma è tanto e inoltre per quanto riguarda alla gara canina e quindi è un evento che sia aver partecipato da amanti gli animali ma anche dei più curiosi curiosi come sono stato gli altri anni io non so se si può ripetere successo degli ultimi anni mi ricordo hanno l'ultima volta 61 cani con 61 padroni è stata un'opoteosi bellissimo anche da vedere perché poi c'è il vestito del cane e del padrone c'è il trucco no i capelli del cane con i capelli del padrone ma è bello anche da vedere perché poi gli animali no specialmente per chi ama gli animali penso che sia una serata straordinaria carina perché poi gli animali sono proprio il rispecchio dell'anima ma sono parte della famiglia mi sembra sempre di più ma lei ha parlato di premi c'è qualche premio in particolare per quanto riguarda la gara canina ecco si si sono premi che noi grazie agli sponsor poi farò un discorso particolare sugli sponsor se i premi ci sono per tutti e naturalmente per chi sale alla classifica sono premi più grandi e l'ingresso di queste serate è aperto a tutti allora sempre da tradizione da noi non si paga ingresso libero per tutte le serate questa è una cosa che vorremmo mantenere se ci riusciamo non è facile le spese sono tante ma non voglio piangere non è facile esatto voglio solo accogliere questa bellissima occasione qui su fanno tv di quella di ringraziare chi ci aiuta gli sponsor noi abbiamo innanzitutto il patrocinio dell'amministrazione comunale che ringraziamo per le attrezzature il parco è già un aiuto importante ma sono gli sponsor adesso non li sto a citare perché sono tanti però li troverete nella nostra brochure perché noi pubblicizziamo questo evento su tutti i social quindi seguite attentamente ma date anche un'occhiata agli sponsor quelle sono le persone che consentono di fare l'ingresso libero a tutti e di sostenere le spese altrimenti senza sponsor lo dico penso di parlare a nome di tanti organizzatori se non ci sono gli sponsor non si riesce a fare nulla esatto bisogna ringraziarli tantissimo così almeno tutto questo può essere reso possibile sì assolutamente bisogna però lo sponsor non che va coltivato va intanto ringraziato esatto è vero in cambio il fatto che si fanno pubblicità sì ma si vede li conosciamo tutti sono amici che ci aiutano e lo fanno per il bene di tutti quindi ci sono i volontari dell'associazione lo voglio dire perché è fondamentale i volontari dell'associazione lavorano per realizzare al massimo e accontentare tutti però le spese vive ringraziamo loro è una cosa bellissima dire che la gente ti aiuta stupendo perché come ha detto lei al giorno d'oggi non è magari tanto una questione di pubblicità ma è una questione di aiutare la collettività aiutare la collettività d'altronde anche loro con le loro attività è vero vivono sul territorio quindi ne trarranno anche vantaggio noi diciamo se quello aiutati che dio aiuta esatto vecchio proverbio però c'è da dire che noi almeno riceviamo sempre un sostegno da tutti a chi chiediamo grazie grande grande grazie mille a mauro rapa per la sua presenza per essere stato qui con noi oggi grazie a voi noi vi aspettiamo tutti dal 24 fino al 28 di luglio a lucrezia e volevamo ringraziare tantissimo tutti gli sponsor come ha citato mauro rapa ma anche tutti i volontari presenti alla festa che è grazie all'aiuto di tutti che questa questo festival può essere reso possibile e anche grazie un grazie di cuore a tutti i ragazzi dell'associazione orizzonte che hanno realizzato questo murales e ci hanno permesso di effettuare una serata all'insegna del solidare grazie da parte di tutti noi ora vi lasciamo agli altri programmi di fano tv e grazie mille per l'ascolto grazie grazie a voi grazie a fano tv